vinciamo non so nemmeno io come andiamo ai quarti non mi ero accorto che erano le semifinali quindi quarti di finale e semifinali stiamo giocando vabbè semifinali contro uncheria uncheria le semifinali dell'europeo mamma mia questa volta partiamo titolari però dobbiamo far valerci mamma mia come parlo pure io farci valere volevo dire vai tu vai che sono qua ripassamela attenzione perché lo salto ci provo tira tu 1 a 0 tutto grazie a me attenzione mamma mia mamma mia la potenza degli europei sono mamma mia dammela qua ma che cazzo mi passi la palla a quel punto no a quel punto dico io che cazzo me la passa fa la palla vediamo se riesco a fare una delle mie giocate non posso ma io veramente non ho parole non ho parole mamma mia attenzione vediamo se riesco a tenere palla quasi ci riuscivo vediamo se riesco a smarcarmi lo vedo mettimela in mezzo mamma mia se ci arrivavo boh 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 vabbè io non parlo proprio perché veramente devo bestemmiare fino a domani sera fino alla finale dell'europeo dovrei bestemmiare una squadra scopertissima mamma mia attenzione lungheria attenzione lungheria attenzione a lungheria c'è andata bene per questa volta la tengo io vediamo se riesco a fare qualcosina attenzione perché tengo palla in qualche modo però me la ruba la copertura altra occasione porca puttana però attenzione a lungheria mamma mia quasi dentro vediamo se ci arrivo di testa in qualche modo palla però agli avversari la difesa non c'è ora sì guardami che sono solo c'è un treno davanti a me porco demonio vabbè in ritardo crossamela che sono libero mamma mia crossamela ancora ci provo di testa non ci arrivo oh oh mamma mia l'1-2 bellissimo ci provo no 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 questi errori non si possono vedere in difesa ok 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 vediamo se io magari me la faccio passare di dietro si provo palo mamma mia avevo quasi chiuso la partita secondo tempo attenzione agli avversari vediamo se riusciamo a fare qualcosa niente da fare attenzione perché non vedo niente da qua sopra questi passaggi non li concepisco vediamo se riesco a saltarli in qualche modo ci riesco però ancora ce l'ho attaccato vediamo se riesco a fare una cosa delle mie da questa distanza me la para la mette in mezzo dove non c'è nessuno ci prova da questa distanza niente da fare recuperate palla per favore attenzione la mette in mezzo c'è il portiere mamma mia mamma mia però così mamma mia attenzione allungheria se la stiamo vedendo brutta stiamo rischiando un casino stiamo rischiando ma che cazzo fa ma perché io non capisco veramente queste cose qua ah se non prendiamo gol non sono contenti se non prendiamo gol non sono contenti mamma mia lo sapevo io lo sapevo io porca puttana lo sapevo io altrimenti non sono loro eh allora io sono libero qua che fa passa indietro io non capisco proprio non capisco queste cazzo di cose che fate mamma mia lo salto ti vedo tira gol grazie a me però grazie a me le azioni le creo io io vinci incazzo mi vinci incazzo perché io faccio bene faccio bene loro fanno solo minchiate solo minchiate così si gioca cazzo chiesa chiesa che cazzo fai pure te che vuoi fare solo io posso fare i tiri da quella distanza lì guardami qua che sono sono da solo sono da solo ci prova dalla distanza vai di testa che ci puoi arrivare niente da fare vai tu vai perfetto mamma mia che cielo di merda manco fossi in difesa dico io manco fossi in difesa mamma mia cinque minuti infernali con questa squadra di merda la partita ormai nostra attenzione teniamoli qua schiazzati in difesa abbiamo vinto e andiamo in finale andiamo in finale vediamo chi c'è in finale vediamo chi prendiamo in finale contro la spagna incredibile come nel 2012 europei spagna italia questa finale la vinceremo noi spagna italia finale del campionato europeo attenzione perché posso subito provare ad attaccare ci provo con un tiro mamma mia subito lampo italia vediamo se riesco a fare qualcosa tengo la palla per oggi è un miracolo io la tengo e gli altri la perdono ovviamente è inutile attenzione alla spagna la spagna è forte la spagna è forte più dell'inghilterra attenzione incredibile attenzione alla spagna c'è donna rum spazzate via spazzate via la passano agli altri vabbè la difesa nulla la difesa non funziona la difesa non funziona vediamo se si riesce a fare qualcosina così cammela niente da fare ok forse abbiamo un'occasione attenzione c'è la possibilità di avanzare c'è la possibilità di avanzare se me la crossi riesco a fare qualcosa se ci arrivo no attenzione alla spagna che vuole ripartire subito in contropiede perché sono anche in superiorità numerica vediamo se riesco a fare io qualcosa palla ancora nostra palla ancora nostra attenzione ci provo mamma mia oh ci mamma mia potevo fare il tiravolo non ci sono riuscito mi ho preso la palla prima al centro da solo non mi passa la palla al centro da solo e non mi passa la palla mamma mia si vuole coraggio a fare queste cose qua attenzione alla spagna che sono pericolosi quando tirano calcio d'angolo per loro spazzatevi il portiere si butta a cazzo spazzate via palla nostra possiamo ripartire in contropiede sono da solo sono madonna mattia zaccai vediamo se me le ripassa il ritardissimo me la ripassa non lasciate da soli gli spagnoli si fa anche rima figuratevi e questo è gol questo è gol mamma mia la difesa la difesa quanto vuole funziona però gli errori tecnici della squadra sono inguardabili vediamo se lui va avanti finisce il primo tempo 0 a 0 una finale molto accesa direi in questo secondo tempo dobbiamo dare il massimo e portarci a casa la coppa ecco cosa intendevo avanti amo vediamo se riesco a fare qualcosa vediamo se lo salto mamma mia ci provo peccato 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 attenzione alla spagna attenzione alla spagna palla in rete 1 a 0 si sblocca la finale non è mai facile in queste partite sono tanti fattori che rischiano di frenare le gambe dei giocatori rete che va però divisa a metà con l'autore del cross davvero magnifico come possiamo apprezzare anche da questa immagine 1 a 0 spagna grazie a tutti